professionista da un anno, dal 6 maggio 2018 il suo esordio ultimo match con Centra, eravamo presenti in quel di Radispoli, la piazza principale una bella sfida, un bel incontro vinta con merito a mio parere da parte di Fersola molto tecnico Alessandro molto tecnico ma anche più longilinio del suo avversario quindi potrebbe in qualche modo sfruttare anche l'allungo e si va, arbitra il signor Marzuoli subito centro ring da parte del nostro, dal pugile di casa lavora col sinistro bel allungo, un bel jab sinistro da parte del pugile di Palombara Sabina molto mobile, lo conosciamo, è un pugile molto tecnico si muove molto bene sulle gambe, lavora bene con il e lavora molto bene soprattutto con i colpi dritti per le vie interne si vede da come porta il sinistro in maniera molto pulita si, il canto è veloce adesso sinistro e poi doppia col destro di nuovo il sinistro Pektovic molto sulla difensiva sinistro di nuovo lavora molto col jab Fersola si, sta lavorando molto bene con il jab adesso tenta di doppiare con un gancio sinistro con un gancio destro, perdonatemi adesso semi gancio al corpo da parte di Fersola tenta una risposta con un gancio sinistro Pektovic che deve cercare in qualche modo di accorciare la distanza perché si, deve chiudere quella distanza non è facile chiudere la Fersola non è facile perché Fersola usa proprio come una sorta di barriera si muove molto bene, usa come barriera il gancio sinistro il jab sinistro adesso una il gancio sinistro doppiato con il destro da parte di Fersola ancora al destro adesso chiuda le corde Fersola chiuda le corde Pektovic prova una combinazione corpo-volto Fersola è un avversario difficile da boxare perché è molto rapido sia sulle braccia che con le gambe anche in questo caso hai visto come si è spostato bene ha portato un montante sotto e si e poi si leva molto velocemente molto velocemente tu rimani sui colpi che è una dote bravissima fondamentale per un pugile e poi è un pugile che per il peso che fa comunque è anche alto si infatti quello che dicevo portando molto veloce quel jab ti rimane difficile boxare e riuscire a chiudergli la distanza vediamo se il serbo riuscirà il serbo dietro la nuca l'arbitro ha fermato immediatamente ha fermato il match e ha fatto segno che non si colpisce dietro la nuca ovviamente fatto recuperare giustamente fuggire il serbo richiamo diciamolo solo verbale doppio sinistro e destro da parte di Fersola ancora il sinistro il jab sinistro tenta un gancio sinistro disposto a Pektovic gancio destro gancio sinistro che colpisce questa volta fa segno da parte di Pektovic di qui Pektovic parte da lontano con il gancio sinistro non è proprio il massimo della vita partire da lontano con un gancio sinistro ci riprovo un'altra volta soprattutto davanti è un avversario che ha molto mobile il gancio sinistro che si era visto stava per partire un po' telefonato ecco adesso Fersola lo porta di non porta di non alle corde il suo avversario con un diretto sinistro e un diretto destro comunque pare un Fersola che fa il picchiatore tecnico perché tiene comunque fa il tecnico ma tiene il centro ring è lui che porta le corde al serbo direi un primo round nettamente a favore del nostro bugile sì credo che Alessandro possa concludere anche il match prima delle sei riprese se mette il piede sull'acceleratore sento di concordare con te il piede ma la differenza tecnica si vede a occhio nudo non ci nascondiamo dietro dietro un dito non so se spesso mi capita di parlare con con i stessi tecnici spesso quando vedono tanta differenza chiedono però al Pugge di avere fino alla sesta ripresa per allenarsi è vero è vero anche perché Alessandro mi sembra che è la prima volta che fa le sei le sei riprese se non erro dovrebbe essere la prima volta che fa le sei riprese sì anche perché nell'ultimo match con Centra ne ha fatte quattro quattro riprese quindi questa è la prima volta testarsi sulle sei riprese non è semplice e sei riprese non sono poche arrivare in fondo fino in fondo al match è importante anche per testare la preparazione atletica come è andata sì soprattutto vedere come come arrivi alla sesta ripresa bravissima la preparazione atletica qui intanto il pugile serbo tenta un attacco tenta una combinazione ma Verso è stato molto bravo a fare il famoso passo indietro e poi a rientrare come hai detto te sta tenendo il centro del ring sta facendo un po' il fighter tecnico ottima definizione da parte tua Max porta le corde adesso Pektovic in qualche modo riesce a uscirne riesce a fare il bene molto mobile col tronco Verso è veramente tanto mobile sia con i piedi che col tronco non dà mai bersaglia all'avversario bravissimo non rimane mai questa volta non rimane sul colpo si fa indietro usa quel jab per riprendere sempre la distanza ed è una cosa che secondo me è importantissima io in palestra lo dico sempre è importante il jab ottimo adesso il montante alla milsa ma anche da vicino il jab comunque ti permette di riprendere la distanza la lunga distanza soprattutto se sei un tecnico qui prova il diretto destro sotto al tronco il pugile serbo infatti giustamente mi hanno accorto anche io Marsuoli dice di stop perché si è staccato uno sponsor degli angoli e poteva si poteva far scivolare un pugile documenta i nostri pugili permette al pugile serbo anche di ricoperare quel colpo si perché secondo me stava accusando Alberto vero? riprova il montante sinistro sotto Fersula un colpo che glielo sta chiamando dall'angolo secondo Torino si perché ha i gomiti molto larghi ed alti soprattutto ha una guardia molto alta il pugile serbo sul clinch eccolo vedi infatti lo porta molto bene ha portato un bellissimo montante a mio parere alla milsa un bellissimo montante destro si è entrato molto bene adesso di nuovo la combinazione doppio sinistro e poi destro una di quelle che alle figure si fa spesso doppio sinistro destro la base del pugilato come combinazione si è quella che ti permette di avvicinarti comunque i due jab danno faschiglio il destro è il colpo forte che i due jab aprono la guardia dell'avversario teoricamente col destro dovresti poi portare il colpo più efficace entra sempre comunque col sinistro al volto verso la dopo il destro magari anche un montante un gatto sinistro Pecklovic comunque Alberto l'ha visto molto bene ha accusato quel colpo tanto è buono il gancio destro è stato un buon gancio destro di adesso ricolpeccia la vizza Pecklovic sta accusando a mio parere si ha sentito ha sentito il colpo anche secondo me Pecklovic adesso si rifugia all'angolo Pecklovic prepara molto bene le azioni col sinistro adesso doppio sinistro destro di nuovo sinistro gancio sinistro da parte di Alessandro Persula verso un diretto destro ancora chiamati 10 secondi finisce il round questo nettamente anche questo per il puzzle di Palombara 10 a 8 se dovessi usare il punteggio che viene dato durante i match si sta andando sta andando molto bene Persula poi noi comunque dicevamo che spesso i tecnici ti chiedono vabbè sei molto più forte porta fino al sesto round il match però quando stai credo no beh ovvio stai lì la transagonistica ti viene voglia di chiuderlo prima perché è normale è la natura del pugile io ho visto in questo fine di ripresa comunque ho visto Persula che ha rallentato ha rallentato bravissimo l'ho notato anch'io ha rallentato un po' ma alcune volte quando ha visto il pugile a ricordo all'angolo non ha sferrato comunque sta bene fisicamente perché parla bene se ci fate caso non si è mai messo seduto quindi questo è sinonimo di grande preparazione quando non ti metti a sede quando non hai bisogno anche del recupero poi Massimiliano come mi dirai subito dopo tu già lo so c'è poi la preferenza del pugile di mettersi a sede o no però è il sintomo di tante volte anche l'angolo perché volevo mettermi seduto e a me il maestro non mi dava la sedia non mi dava la sedia bravo diciamo che anche prima Maria Cecchi non si è mai seduta quindi forse Autorino non dà la possibilità ai pugili di sedersi è un'imposizione diciamo allora se comunque i suoi pugili stanno bene athleticamente vuol dire che il lavoro atletico del suo team è stato ottimo beh stiamo vedendo un Persula che porta tanti colpi molti colpi è bene col destra ancora poi un altro bello sempre il montante sotto il montante destra la milsa ma poi ottima mobilità sulle gambe sui piedi adesso Becdovich tenta in qualche modo di fare il fighter ossia di avvicinarsi e portare una convinzione di colpi si muove molto bene Persula che poi gira molto bene sulle gambe molto mobile Persula non rimane nei colpi mai nei colpi poi muove molto bene il tronco quindi non dà mai il bersaglio all'avversario si è bravissimo ecco quella è una cosa importantissima non dare mai bersaglio fisso mi muovo sempre destra sinistra non ti do quel bersaglio fisso dove tu vai a menare come faceva prima la pugile serba che veniva dritta per dritta che praticamente bello adesso un diretto destro un diretto destro presa a tempo mentre veniva avanti bene il montante sinistro montante sinistro montante destro ancora un diretto sinistro adesso un diretto destro diretto sinistro adesso per Persula ecco il sinistro lo usa come un po' come un mirino per prendere la misura e poi entrare col destro adesso cambia guardia bene ancora col montante sinistro lavora sotto al montante sinistro entra quasi sempre col montante sinistro ma hai visto bene Max l'avete visto bene anche te Alberto il pugile serbo con i gommi di molto larghi si chi lascia fegato e missa abbastanza scoperti e non è proprio il massimo della vita nel pugilato lasciare fegato e missa scoperti l'abbiamo visto prima con il match da parte di Perrone con quel K-O con quel montante al fegato si da idea Persula c'è sorta di rallentare di proposito si pare non non spingere sull'acceleratore anche se secondo me tante volte è un'arma come si dice un'arma a doppio taglio si perché dai la possibilità all'altro di ripiatare dai coraggio all'avversario perché in questa in questa ripresa sta spingendo un pochino di più il pugilato cerca di fare qualcosa adesso adesso lo ha sentito il montante al fegato l'ha sentito l'ho sentito anch'io da qua quindi credo che avrebbe sentito anche lui beh quando comincia a prenderne 4-5 di montante perché poi ricordiamolo mentre prima c'erano i guantoni antischoc qui non sono antischoc i guantoni esatto i professori non ci sono antischoc forse la campanella il gong potrebbe salvare Pektovic ma sicuramente lo farà manco 10 secondi ancora un bon jab da parte di di Fersu l'ha entrato molto bene adesso serie con diretto sinistro diretto destra e gancio sinistro finale adesso arriva adesso è arrivato arriva seggiolino forse perché abbiamo superato la metà del match stiamo per entrare nel quarto round ricordiamo ragazzi che siete collegati con YouTube Federazione Bugistica Italiana il live streaming qua da da Guidonia nonché media sport channel 814 185 sport TV live streaming anche su 11 sport nonché sulla pagina Facebook di Fighter Lives per questa grande serata di box qui a Guidogno il cui main event sarà la sfida per il titolo cruiser del Mediterraneo IBF tra Dortensi Luca Del Gentile Dortensi e Sam Levin chi vi parla è Tommaso Cavallaro come Max Maone e Alberto Frati la regia da parte della Stream Plus sicuro si è un po' dimenticato che è rintoccato tocca uscire dal ring ovviamente poi anche il maestro in ten trance durante il minuto di break per dare i consigli utili al suo team intanto inizia la quarta ripresa adesso non voglio sbilacciarmi ma si sa chi ha vinto questo match quando è pugilato è uno sport particolare che basta un colpo ribaltare tutto ma Fersola completa padronanza di questo completo controllo del match si finora tre riprese nettamente vinte da Fersola la combinazione di cui dicevamo prima sia doppio sinistro destro da parte di Fersola ancora un sinistro sinistro destro esce molto bene poi dalla risposta di Vektovic bel movimento col corpo col tronco si si è spostato bene indietro ha mandato a vuoto il gaccio sinistro di Vektovic bravo qui Fersola ancora una volta a spostarsi indietro con il tronco guardia un po' più bassa in questo momento per Fersola anche comunque si sente abbastanza credo sicuro abbastanza tranquillo sul ring però non bisogna mai abbassarla la guardia più girato non si sa mai esatto che se è pieno controllo lo dicevamo all'inizio di questo round pieno controllo del match adesso porta le corde il fuggire serbo un buon gancio sinistro per Petkovic un diretto sinistro gancio sinistro da parte di Fersola Petkovic mi sembra è notevole difficoltà ora è riuscito a uscire dalle corde Petkovic dall'idea Fersola che si accelera un po' potrebbe anche chiudere l'incontro prima del limite come diceva Alberto deve stare sempre attento attento Alessandro perché spara ogni tanto questi gancioni gancioni portati forse un po' casualmente però se poi c'entrano il bersaglio possono fare male e possono ridare coraggio al tuo avversario bravo soprattutto quando magari non te le aspetti capito? non so se vi ricordate il match ricordate sicuramente Joshua Ruiz quando Joshua ha preso quel gancio che l'ha accusato molto infatti alla fine poi ha perso dopo che ha mandato al tappeto nella prima parte dell'incontro Ruiz e dopo ha subito un gancio che praticamente l'ha stordito ma non sembra il caso perché Petkovic non è Ruiz comunque ricordiamolo esatto anche se comunque il gancio adesso però un gancio un montante che entra sempre il montante sinistro alla milsa ne ha presi tanto il pugile serbo però ancora in piedi dimostra di avere una buona resistenza una buona struttura fisica qui ancora con la distanza un gancio sinistro però viene schivato molto facilmente molto bello molto bello molto bello su Petkovic che si è buttato contro questo montante molto bravo persolo a capirlo e a tirare questo montante che l'ha preso al mento si gli ha preso bene il tempo lo ha capito in anticipo ha messo questo montante destro al volto ed è entrato molto bene finisce questo quinto round finisce questo quarto round perdonatemi anche questo round credo a favore del pugile non strano no stavo riflettendo su cosa potrebbe fare Petkovic per per Arginale Alessandro no io riflettevo un pochettino stavo pensando a quello dovrebbe evitare di lasciare di troppa distanza quindi dovrebbe accorciare dovrebbe accorciare la distanza e se ha benzina bravissimo dare pressione e se ha la benzina è l'unico modo per in questo caso di neutralizzare Alessandro che mi dà comunque ribadisco l'idea di non voler accelerare troppo sicuramente sicuramente concordo pienamente con te però vediamo ecco magari in questa quinta ripresa quinta ripresa come un po' di stanchezza da parte di Petkovic anche perché tiene la bocca molto aperta ovviamente la stanchezza inizia a farsi sentire si di colpi ne ha presi parecchi sotto e poi diretto sinistro adesso tenta il gancio destro Persula prova ancora ora sta spingendo un pochino sull'acceleratore forse ha attenzione di chiudere il match prima sinistro destro ancora ancora un gancio destro si sta mettendo colpi anche più convinti rispetto a prima si butta cambia guardia Persula molto bravo anche in questa adesso la ricambia nuovamente è sempre complicato quando ti torna di fronte un avversario che ti cambia guardia molto spesso si comunque ti destabilizza a livello pugilistico non sai magari prima devi girare da una parte poi devi girare dall'altra devi stare attento al destro poi devi stare attento al sinistro ancora questo sinistro e poi subito un gancio destro adesso un gancio sinistro sta entrando molto molto più più convinto in questi colpi molto convinto Pektovic Dico Persula sta entrando molto più convinto sui colpi in questo quinto round se prima lavorava in scioltezza adesso non so voi ma secondo me c'è nell'area un conteggio per Pektovic adesso si Pektovic sta accusando molto sta accusando molto perché ne ha presi tanti soprattutto in questo round si Persula ha messo più pressione ha messo più pressione e convinzione nei colpi i colpi cominciano a farsi sentire ricordiamo che comunque Pektovic ha preso montanti per quattro riprese vuoi o non vuoi si sfiancano si sfiancano è un colpo che è sfiancante qui ancora un po' diretto destro da parte di Persula adesso bel montante destro di Persula al volto preso in pieno Pektovic gancio sinistro sta giocando un pochettino adesso Alessandro col fuggire serbo sta anche provando delle combinazioni si un bel di test comunque diamo atto al ragazzo serbo che non si è si è affervinto poi c'è sempre un po' d'orgoglio dentro no a prescindere si no però veramente complimenti anche a lui compito improbo perché la differenza tecnica è tanta anche fisica a mio parere si vede si vede parecchio adesso un montante sotto alla milsa gomito basso e l'ha tenuto esatto tiene comunque sempre il centro Persula si lo ha fatto per cinque riprese si muove sul tronco si muove ancora il montante destro Persula devi fare attenzione alla testa il pugile serbo lo fa presente Marzuoli dieci secondi che sarà finito anche questo quinto round poi ci sarà l'ultimo round sono due Persula che ha finito il round qualche secondo prima della campanella sì perché credo che sia caduta è caduta la dentiera il paradenti perdonatemi perdon al pugile serbo Pektovic siamo entrati nell'ultimo round comunque ho cioè la mia impressione è che Persula abbia deciso in qualche modo di arrivare fino all'ultimo round sì sì ha deciso anche secondo me di arrivare all'ultimo round perché io darei tutti i dieci otto per Persula sta dominando proprio secondo me secondo me anche alcuni secondo me un round pure dieci sette per quanto mi riguarda intanto è arrivato nel ringside Simone Federici eccolo là sta parlando con Rea Valerio Lamanna chiama fuori i secondi e si sta per iniziare con l'ultima ripresa l'ultima ripresa dopo di che ci sarà l'ultimo match di sottoclù quello che vedrà Fissian Malvitano combattere contro Milovan Dragoyevic per quanto riguarda i Velters sei round e poi ci sarà il match clou d'Ortensi Levi titolo mediterraneo IBF dei Cruiser ricomincia col suo sinistro col suo jab sinistro una buona reazione da parte di Pektovic pugni che finiscono sui guantoni di Fersula adesso un gancio sinistro molto voliente da Fersula diretto sinistro diretto destro che ha cambiato di nuovo guardia Fersula si la cambia spesso molto bravo qui di Tronco a schivare il gancio dei pugni di riservo cambia di nuovo guardia si che poi quando molto veloce nel cambiarla quando il Mancino cambia guardia comunque porta il gancio sinistro che diventa il suo colpo forte quindi devi stare ulteriormente attento al sinistro avanti perché in teoria è il colpo forte dell'avversario dell'avversario certo adesso vediamo ancora col sinistro entra sempre nella guardia di Pektovic perché lo porta molto velocemente e lo allunga del tutto si è molto molto rapido ha fibre molto elastiche quello da buon tecnico il gancio lungo che lo porto dalla media distanza ancora al sinistro di Fersula tenta il gancio che finisce però sui guantoni di Pektovic sinistro destro e schiva poi il gancio sinistro da parte di Pektovic adesso guardia molto bassa Fersula è molto sicuro diretto sinistro gancio destro ne ha presi tanti il Pugile Serbo comunque sei riprese tutte con lo stesso copione Fersula centro ring e il Pugile Serbo costretto a girare costretto soprattutto in fase difensiva tentato qualche attacco ma niente di che adesso tenta in qualche modo di entrare al corpo il Pugile Serbo con un diretto sinistro molto bravo Fersula a schivare anche in quel frangente in quell'occasione adesso si punta Pektovic Fersula comunque lo prende prima con il diretto sinistro lo fa girare poi una serie di montanti al corpo adesso combinazione diretto gancio diretto montante destro con un diretto sinistro sta portando colpi molto scioltezza sta quasi quasi giocando pare Fersula sta giocando sta giocando questo voglia arrivare alla fine del match abbia usato questo match anche per provare delle combinazioni comunque Pektovic non si dà per vinto tenta in qualche modo di colpire con dei ganci al volto Fersula che intelligentemente lega poi esce tenta di fare di fare la ripresa ha capito che Fersula sta sta rallentando un pochino e lui cerca di fare la ripresa Fersula ha fatto ha sciorinato le sue schivate molto bravo direi vittoria netta sì match match a senso unico bravissimo stavo per dire la stessa cosa match a senso unico per Alessandro Fersula che secondo me si è portato a casa il risultato quindi sei vittorie su sei match per Fersula Pektovic credo che si sia tenuto tutto per gli ultimi trenta secondi comunque onore anche al ragazzo serbo ragazzi che ne ha presi tanti di colpi ma è rimasto sempre in piedi si dicevo è sempre il pugilato è sempre uno sport particolare può arrivare un colpo l'ultimo secondo anche ti può ribaltare completamente la e beh questo è il bello la situazione il bello del pugilato no è uno sport di situazioni insomma tu puoi dominare otto riprese prendi un colpo alla fine vai a K.O e vinci l'altro avversario pienamente siete d'accordo poi ricordiamo questi quantini sono fanno la differenza col bendaggio duro sotto siamo al verdetto vince questo incontro ai punti da Palombara Sabina Italia Alessandro Versula non che vi fossero dubbi ragazzi diciamo insomma io credo che anche anche un giudice alle prime armi avrebbe dato la netta vittoria ma io credo che sia stata una vittoria di dieci otto però complimenti a ragazzo serbo perché fino alla fine